un po' più un po' stretto qua ma non posso dire vuoi rimanere qua lorenzo mercoledì lorenzo io ho fatto un po' insieme chiara coccora buon la puzione buona buona Sammela un vero piacere ai miei ragazzini è una storia Irene è assassina Claudia, una bellissima occhiazzone, Verdi, 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 Francesca, 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 Frances c'è Monica comunque sei anche tra noi quella di Monica 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 e tu hai chiesto che hai segnato direttamente a NASA fisicamente non sei tra lo stesso ok se lo mettiamo qua Monica vedete è un coperto no no la vediamo ci vediamo ok non lui no facciamo anche una foto a tutti